La vittoria di sabato contro la partena per calcio a 5 pone il Biceglia in testa alla classifica in coabitazione con il futsalisola a quota 21 punti. Cosa è piaciuto a Simone Colaiani della partita in casa campana e cosa c'è da correggere in vista del match contro il futsal Cisternino? Sicuramente è stata una partita difficile, lo sapevamo. È un campo duro perché loro in casa comunque non hanno mai vinto e cercavano di vincere contro di noi. Comunque adesso ogni squadra che incontreremo per via della classifica darà il 110% e dobbiamo stare pronti a tutto. Sicuramente potevamo fare meglio i primi dieci minuti però ci sono anche gli avversari quindi è normale che ogni tanto devi andare in difficoltà. Poi il secondo tempo l'abbiamo vinta penso meritatamente. Dal punto di vista personale hai recuperato da un fastidioso infortunio, una buona gara da parte tua, di personalità. Cosa pensi di questo tuo inizio di campionato con la maglia nera azzurra? Io avevo un fastidio e il mister ha preferito non rischiarmi col Catania. Penso che comunque sono entrato in sordine in questa squadra, un gruppo già consolidato, un gruppo lasciamolo dire veramente spettacolare. Io cerco sempre di dare il massimo e di fare sempre il mio e quello che mi chiede il mister. Poi sono contento che sto facendo bene come tutti gli altri e spero di continuare così. La vigilia del derby contro il futsal cisternino regala doppie emozioni, quella di un derby che davvero regala emozioni particolari ma c'è anche da raggiungere un obiettivo ormai a portata di mano, quella della qualificazione alla final 8 di Coppa Italia di A2. Sì è normale, adesso siamo lì e ce la dobbiamo giocare per forza. È un sogno che all'inizio forse ci credevano in pochi, sia gli addetti ai lavori che quelli che seguono il futsal e siamo lì veramente a un passo e non possiamo adesso, non possiamo lasciarcela sfuggire, non ci possiamo nascondere e vogliamo andarci. È una partita difficilissima ma come è stata difficilissima col Catania, col Policoro, col Catanzaro. È normale che è un derby e ce la saremo a viso aperto penso come loro.